E' difficile far venire alcuni testimoni, diciamo così, dalla Spagna specialmente. Mi auguro che non ci siano tempi lunghi. E' una pausa forzata, quella del processo sul caso di Martina Rossi, la studentessa genovese, deceduta nell'agosto del 2011 dopo essere precipitata dal terrazzo di Nutella Palma de Maiorca. I due testimoni danesi, citati dalla pubblica accusa, che occupavano la stanza a Tigua, la 609, dove avvenne la tragedia, non si sono presentati. Per la vicenda, come è noto, sono alla sbarra i due retini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di aver provocato la morte della giovane in seguito ad un tentativo di violenza sessuale. Tesi che il perito di parte nella scorsa audienza aveva avvalorato, mostrando in aula il video di una intercettazione ambientale successiva alla tragedia. Si vede in maniera assolutamente chiara Albertoni rassicurare Vanneschi, spiegandogli che non ci sono tracce nel corpo di violenza sessuale, quando di violenza sessuale nessuno aveva parlato. Poi parlano del momento immediatamente precedente, si comprende che parlino della caduta di Martina e accompagnano questo dialogo con un'esclamazione finale, è stato bello è e con una bella risata finale. Secondo la difesa, che ritiene inutilizzabile questa intercettazione, la giovane sessuicidò ed in aula sono stati mostrati i disegni di Martina pubblicati sulla sua pagina Facebook. L'abbiamo portati noi, ne abbiamo chiesto l'acquisizione, sono indagini difensive, sono praticamente disegni e dipinti estratti dal profilo Facebook di Martina. Secondo noi ovviamente sono rilevanti, però non intendo anticipare oltre perché poi ne discuteremo più avanti. L'udienza è stata rinviata al 12 di luglio.